Tornare a riunirsi il Consiglio regionale lo fa all'indomani dei risultati definitivi delle elezioni politiche che hanno visto prevalere a livello nazionale la maggioranza di centrodestra. Ripercussioni sulla tenuta della coalizione di centrosinistra che guida la Toscana le esclude il maggiore partito il PD. In calza invece l'opposizione la maggioranza non c'è più. Quali scenari politici allora si aprono? Temi che hanno caratterizzato le dichiarazioni dei principali esponenti dei gruppi consigliari rappresentati. Per il capogruppo del PD è il momento dei contenuti e della chiarezza. Prima i contenuti, prima la riprofilatura del Partito Democratico, prima una riflessione su un programma che noi abbiamo per quanto riguarda il governo della regione che ha messo assieme una maggioranza che è quella che governa quindi la riconfermo eventuali aggiornamenti. Partiamo dai temi e partiamo dai contenuti non da altro e poi si parla di chi dovrà guidare il partito. Certo, nelle dichiarazioni vedo anche delle dichiarazioni in netta discontinuità. Vorrei che si ripartisse anche un po' andando a rivedere quali sono le collocazioni delle varie persone, dei vari dirigenti all'interno del PD perché vorrei che di fronte alla nuova stagione ci sia anche una coerenza con le cose che andremo a proporre, ma prima i contenuti e dopo gli assetti. La maggioranza ormai in crisi attacca Fratelli d'Italia. L'agenda Gianni se esiste immagino sia fatta da una pagina, la pagina in cui il governatore prende atto che da oggi se vorrà continuare a governare questa regione lo farà non avendo più la maggioranza dei consensi della regione. Perché ieri ho sentito il governatore arrampicarsi addirittura in uno strano conteggio matematico secondo il quale avrebbe ancora la maggioranza perché somma i consensi del PD quelli della lista di Calenda e Renzi. Forse è dimenticato che la lista di Calenda e Renzi ha fatto la campagna elettorale praticamente quasi esclusivamente contro il Partito Democratico, quindi dubito che oggi questi consensi si possano sommare. Oggi Fratelli d'Italia è il primo partito al Senato in Toscana e quindi il presidente Gianni ovviamente ne doveva prendere atto. Detto questo auspico nell'interesse della regione e di tutte le province toscane che vi sia una collaborazione tra il governatore Gianni e il governo, su questo non ho dubbi. In ogni modo, dice la capogruppo della Lega che presto lascerà il Consiglio regionale perché eletta in Parlamento, il centrodestra si prepara al voto del 2025. Io credo che sia qualche anno, parliamo di vento che cambia, quando abbiamo iniziato a vincere i capoluoghi, adesso noi governiamo 7 su 10 in Toscana e questo risultato ci fa ben sperare per le elezioni regionali del 2025 perché evidentemente, come succede in tante realtà o è successo in altre regioni, le persone cominciano a sentire la voglia dell'alternanza politica e di provare anche qualcos'altro, di provare anche un governo che possa essere di centrodestra, che possa essere diverso da quello che ha sempre visto la Toscana in questi anni e magari nel 2025 ci sarà una svolta positiva anche in questo senso. Noi ci crediamo e lavoriamo anche per questo perché il programma che abbiamo portato nel 2020, noi, ma anche quello che ha portato Gianni, in realtà è lettera straccia. Il nostro perché ovviamente la maggioranza non ci porta a riflessioni che possano essere utili per il territorio perché tutte le cose che presentiamo ce le bocciano sistematicamente e il loro perché la loro maggioranza frantumata, come vediamo, non li porta a portare a casa niente. Si pensi solo che in questa legislatura ad ora non abbiamo ancora visto una riforma. Per noi un successo rilevante, soprattutto in Toscana, dice Italia Viva. È il momento delle scelte e del riformismo. Su questo sfidiamo gli alleati del PD. Questo denota che vanno fatte delle scelte, bisogna attuare una politica di governo in grado di assumersi responsabilità, attuare i piani di programmazione, fare scelte infrastrutturali, stare accanto all'impresa e al lavoro che oggi parlano la stessa lingua e questo denota che abbiamo diritto e il dovere di cambiare passo, per esempio, per quanto riguarda la gestione della sanità che non sta dando le risposte dovute agli operatori e né ai cittadini. Da Italia Viva no poi al progetto del campo largo l'alleanza con il Movimento 5 Stelle. Per cambiare passo la Toscana non serve allargare il campo, serve fare le scelte per le quali ci siamo candidati due anni fa. Serve dire sì al regassificatore, serve non avere doppie misure rispetto all'investimento dell'aeroporto di Firenze, serve fare una misura straordinaria a sostegno delle imprese, serve cambiare passo in termini sanitari, serve fare le cose, serve fare il piano dei rifiuti, non soltanto annunciarlo. È finita la stagione degli annunci e dei proclami, deve iniziare la stagione del governo della nostra regione. Abbiamo tempo sei mesi per arrivare alla metà del mandato e su queste questioni che noi chiediamo un cambio di passo alla regione toscana. Il PD deve scegliere perché noi e Italia Viva siamo alternativi, dice la capogruppo del Movimento 5 Stelle. Faccio un piccolo richiamo storico a due anni fa, quando il Presidente Gianni manifestò la stessa intenzione, ma io non ricordo di aver mai avuto contatti concreti per avviare anche questo percorso, perlomeno da parte sua. Dall'altra parte c'è un'evidenza che il campo largo, larghissimo, eccessivamente largo, che vorrebbe mettere insieme dei programmi totalmente diversi come quelli che sono rappresentati da Italia Viva e Azione e il Movimento 5 Stelle, quindi un neoliberismo da una parte, rispetto a un progressismo e a un'agenda sociale più chiara e netta come quella del Movimento 5 Stelle, non possono stare insieme, questo anche nel rispetto di ciò che le forze politiche esprimono. Quindi se questo, l'idea di Gianni, è quella per cercare di recuperare abbastanza consensi perché teme un risultato devastante per le regionali del 2025, ecco, mi sento già di suggerire un consiglio non richiesto che l'operazione così posta è assolutamente sbagliata. Sono i contenuti a determinare eventualmente l'allargamento della maggioranza, dice il Presidente del Consiglio intervenendo nel dibattito. In Toscana noi abbiamo un programma molto chiaro, su questi temi noi siamo disponibili a confrontarci con tutte le altre forze politiche, quindi a partire dal Movimento 5 Stelle, però i temi sono chiari, sulla transizione ecologica la nostra proposta che abbiamo messo in campo soddisfa o no chi oggi non è in maggioranza. Sul tema delle infrastrutture, allo stesso modo, noi pensiamo che debbano essere portate a termine, sulla sanità pubblica e la necessità che il Governo metta più risorse per sostenere le regioni che hanno più sanità pubblica come la Toscana, il Movimento 5 Stelle è a favore o contrario? Io parto dai temi perché se noi ci rimettiamo di nuovo nella discussione delle alleanze come abbiamo fatto in questi anni e come dicevo anche prima, noi si rischia di fare il gioco dell'oca che non porta da nessuna parte. Noi abbiamo un programma chiaro, con quel programma ci siamo presentati i cittadini, se guardo i dati anche ora delle politiche che sono molto differenti, quelle due forze, la centro-sinistra più il terzo polo, sono ancora maggioranza con numeri importanti a livello regionale, noi ripartiamo esattamente di qui. Il progetto di riforma del servizio di guardia medica al centro di una mozione presentata dal capogruppo d'Italia Viva, Stefano Scaramelli, che chiede di fermare il progetto che, a suo parere, provocarebbe conseguenze incalcolabili sulla sicurezza sanitaria dei cittadini toscani. E' una mozione che difende il ruolo dei medici, che ne attribuisce un significato e un valore alle professioni mediche, sanitarie e infermieristiche, che vuole difendere il volontariato della regione toscana e che vuole tutelare il lavoro dei pronti soccorso della Toscana. E' quindi un impianto, quello di riforma, che il Partito Democratico ha ipotizzato. Riteniamo che sia un errore. Io ho posto con questa mozione un voto del Consiglio regionale perché desse un indirizzo da giunta per fermarsi, perché è una riforma che va bloccata, che io a suo tempo avevo già bloccata, ho avuto la forza e il coraggio di farlo quando ero presidente della Commissione Sanità e quindi per cinque anni ho fatto in modo che questo non avvenisse. Adesso si ritorna e si tira fuori dai cassetti una vecchia impostazione che lede da una parte i territori rurali, che impedisce ai cittadini toscani di avere un sistema di emergenza, di urgenza adeguato alle proprie aspettative, che mortifica il volontariato, svilisce la professione dei medici e soprattutto rischia di intasare i pronti soccorso. Andare a togliere i medici di guarda nel territorio è un errore perché sono un presidio territoriale e il Covid ci ha detto quanto sia importante. Sostituire un medico con un call center vuol dire fondamentalmente svilire la professione sanitaria e medica. Per questo non l'abbiamo contrastata. Dispiace che il Partito Democratico da solo, contro tutto il Consiglio regionale, abbia voluto difendere una riforma che a mio avviso è indifendibile. La mozione, oltre ai voti di Italia Viva, ha ricevuto tutti quelli delle opposizioni, risultando però bocciata per il voto contrario del Partito Democratico. Una richiesta assolutamente sensata perché nel momento in cui i pronti soccorso scoppiano è evidente che se leviamo la guardia medica aumenta il carico sui pronti soccorsi perché non hanno i pazienti che stanno male la notte altro modo per essere curati e chiamare il 118. Ebbene, quella richiesta è stata votata da tutte le opposizioni, da tutte le minoranze in maniera convinta, dal 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma è stata bocciata dal Partito Democratico. Quindi la maggioranza non c'è più, una mozione che non avviene su una cosa di lato, su una cosa marginale, ma su un elemento centrale come la sanità e come la riforma della guardia medica. La maggioranza che sosteneva Gianni qualche mese fa non esiste più. A spiegare l'iter della riforma il presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni, al momento è in corso un iter di consultazione con gli ordini professionali. Il tema della riforma della continuità assistenziale della guardia medica è una cosa che si parla da anni, cioè già dalla scorsa legislatura era pronta una riforma perché noi di notte ogni guardia medica risponde in media a due telefonate. Qui si tratta di strutturare intanto un obbligo europeo è corretto di strutturare un numero unico per la continuità che è il 116-117. Quindi questo comunque va fatto. Secondariamente c'è da ristrutturazione tutto il tema delle case delle comunità. In ogni zona ci sono almeno una casa della comunità AB che è aperta H24. Quindi c'è una presenza che deve essere costruita e non ha senso mantenere una guardia medica e poi costruire una casa della comunità accanto. Quindi deve essere riassorbita dalla costruzione delle case delle comunità AB. E le preoccupazioni per le aree periferiche? L'assessore quando è venuto a presentarla in Commissione ha detto chiaramente che nelle aree periferiche dove c'è una lontananza da qualsiasi presidio medio viene mantenuta la presenza fisica della guardia medica. Quindi lanciare gli allarmi mi pare che sia assolutamente fuori contesto. Tra l'altro ancora non è stata messa in piedi perché c'è una fase di concertazione che la Giunta sta facendo e quindi non si può che dire che è corretto sia perché i dati ci dicono che bisogna riformarlo il tema della continuità assistenziale e tutti sono sempre stati d'accordo. Sia perché la procedura che sta seguendo la Giunta è una procedura di grande concertazione e di grande ascolto prima della decisione. La lettura politica non lo so, lo vedremo nei prossimi giorni ma penso però che questo sia veramente una presa di posizione dei consiglieri di Italia Viva ma che non abbia poi ripercussioni di carattere generale rispetto alla maggioranza. Evitare un'altra estate drammatica per l'agricoltura toscana dovuta alla siccità come individuando aree dismesse che potrebbero essere trasformate in bacini di accumulo per fare fronte ai periodi di siccità e la richiesta avanzata in una mozione presentata da Elena Meini della Lega e approvata con voto unanime dopo l'accoglimento di alcuni emendamenti del PD presentati dal consigliere Mario Puppa. La mozione spiega la firmataria nasce da un dato in Toscana ci sono oltre 2.400 cave dismesse o abbandonate potrebbero salvare l'agricoltura. Auspichiamo che oltre a una mozione già precedentemente presentata su soltanto i bacini di accumulo in Toscana ci sono circa 2.400 cave, altre regioni lo hanno già fatto e anche in Toscana si chiede un censimento di queste 2.400 cave, la visione, la rivisitazione per far sì che alcune almeno di queste cave possano diventare dei veri e propri bacini di accumulo. L'emergenza idrica che abbiamo attraversato in questo periodo estivo ha messo in ginocchio moltissimi agricoltori, diverse attività produttive e quello che noi ospichiamo è sicuramente che nella prossima estate questo non si ripeta più, quindi abbiamo tutto un periodo diciamo tunnale, invernale davanti per poter valutare queste cave come bacini di accumulo e cercare di risolvere per la prossima estate questo problema che ha travolso non solo questa regione. Grazie a tutti.